Dal 13 marzo al 30 aprile il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza ospita la prima mostra postuma dell'artista Mauro Andrea dal titolo Io odio la ceramica. Questo titolo che può apparire strano, visto che la sede è il Museo Internazionale delle Ceramiche, un titolo come questo può avere anche un sapore di provocazione, in realtà non lo è. Mauro Andrea è stato un artista che ha iniziato a lavorare verso la fine degli anni 70 come grafico e come pittore essenzialmente. Poi si è anche dedicato alla ceramica per la prima volta nell'81-82 quando invia una serie di opere al concorso nazionale della ceramica di Faenza e nell'83. Nell'83 succede che la giuria non accetta in toto un'opera complessa e molto articolata che lui aveva presentato. Si tratta di vari gruppi di figure che per la prima volta da allora sono state ricomposte oggi qui al Museo delle Ceramiche di Faenza. La giuria si oppone alla presentazione totale dell'opera e gli chiede di presentare solo due pezzi di una composizione più complessa. Lui naturalmente rifiuta e coglie l'occasione per trasformare questo atto di diniego in un fatto artistico. Trasforma il tutto in una sorta di performance, ossia accetta di presentare solo due opere che vengono allestite al Palazzo delle Esposizioni. Poi il giorno dell'inaugurazione si presenta con degli amici, mette sotto cello, fanno le due opere, attacca al muro una grande foto dell'opera completa, marchia il tutto con la sua etichetta di arte impura e diffonde un volantino dove ironicamente ringrazia la giuria del suo operato. Grazie.